È stato presentato a Firenze, presso l'Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, il rapporto Il mondo cambia pelle, a cura del professor Mario De Aglio e curato dal Centro Inaudi, che analizza i trend macroeconomici e le dinamiche geopolitiche internazionali rapportate all'Italia negli ultimi 12 mesi, con uno sguardo specifico al ruolo che il nostro Paese può assumere nell'attuale congiuntura economica in relazione alle dinamiche internazionali. L'incontro fa parte di una serie di eventi iniziata lo scorso 21 gennaio, con la presentazione del rapporto a Milano, che toccherà varie città d'Italia, come Perugia e Genova, per concludersi a Roma il prossimo giugno. Cambia, nel senso che c'è in atto, a livello geopolitico, le elezioni che ci saranno in Europa, a seguire poi dopo il discorso dei dazi fra l'America e la Cina, pertanto sono tutti fattori che possono andare ad incidere sulla situazione macroeconomica. E pertanto cambia pelle, nel senso che se cambia la politica, cambiano anche i dazi doganali, tutto diventa più difficile. Il rapporto, il cui volume è edito da Guerini e Associati, è sostenuto da UbiBanca, che ha promosso l'incontro fiorentino con il patrocinio di Regione Toscana, Comune e Camera di Commercio di Firenze, è giunto alla ventitreesima edizione. Lo studio si è sviluppato con la presentazione a cura di Giorgio Arfaras, coautore del rapporto, seguito da una tavola rotonda, in cui si sono dibattuti numerosi temi come il lavoro, l'imprenditoria, il risparmio e la finanza. Allora, il punto è che in Italia ci sono 60 milioni di persone, quelli che lavorano sono 23 milioni, quindi 60 meno 23 fra 37, gli altri, i 37, sono vedove, pensionati, poppanti, non so, malavitosi. Quindi c'è un problema che 23 milioni di persone mantengono 37, in una situazione che vede un invecchiamento progressivo della popolazione. E' difficile immaginare che una cosa del genere possa funzionare. Il punto è che, se ho ragione, che da DocNore e da quanto poche sono le persone che lavorano, è che questa cosa è fuori dall'orizzonte della pratica politica, perché si tende più a voler redistribuire il reddito che a produrlo. E quindi siamo in questa, diciamo, situazione difficile, per cui per quello che si intravede siamo ancora stagnanti, in una situazione di stagnazione. Contiamo, speriamo, che ci si ravveda e il futuro sia più roseo. Tra i temi dibattuti, il rapporto tra politica, ricadute economiche, partecipazione dei cittadini nelle scelte amministrative. La protezione di specifici comparti non porta necessariamente a ricadute positive nel ciclo economico, che oggi è globale, condizione dalla quale non si può tornare indietro. Il sistema economico è ipermediatico e vive di comunicazione, ma gli stessi numeri possono essere presentati in modi diversi e generare farsi illusioni. Nella fattispecie, quello che per l'Italia era fino a poco tempo fa un vanto, ovvero l'iniziativa imprenditoriale medio-piccola, si presenta oggi come una debolezza, dato che la moltiplicazione di piccole e medie imprese impedisce la scelta di una linea comune d'azione in uno scenario, quello internazionale, che viene raccontato come iperdinamico, ma che in realtà è meno attivo e mosso di quello che sembra. In conclusione, le scelte aggreganti sono premianti e meno aggredibili dall'esterno, perché rafforzano l'insieme e danno sicurezza nelle decisioni ed efficace di manovra.